San Michele al tagliamento. Le hanno suonato il campanello chiedendole se potevano utilizzare urgentemente il bagno. La gentilezza e la buona fede di un 86enne le sono costate un furto stimato intorno ai 1500 euro. Mentre una delle due ragazze si intratteneva con la signora, l'accomplice al piano di sopra faceva man bassa di oggetti preziosi. Le due si sono poi allontanate a bordo di un'auto nella quale le attendeva una terza persona.